Il Covid ha bloccato ogni manifestazione pubblica e così il collettivo di donne Adesso Basta Ragusa ricorda con un'immagine la giovane Pamela Canzonieri, vittima di femminicidio in Brasile, con il presunto autore arrestato dalle autorità locali dopo le opportune indagini. Pamela deve essere comunque ricordata in questo triste anniversario, si legge nella nota di Adesso Basta, e lo facciamo con un'immagine semplice, come lo era Pamela, una giovane ragusana, bella e solare, con tanta voglia di vivere. Per non dimenticare lei, come tutte le altre donne, chiude la nota, vittima di femminicidio. Sono passati quattro anni da quella terribile tragedia che vide vittima Pamela Canzonieri. Pamela fu trovata morta il 17 novembre del 2016 in casa sua a San Paolo, in Brasile, in circostanze mai del tutto chiarite. Secondo le indagini sarebbe stato un suo vicino di casa ad ucciderla, perché la ragazza aveva rifiutato le sue avance. La violenza sulle donne a molti volti, violenza fisica, psicologica, sessuale, si tratta di un crimine contro cui tutti gli uomini per prima sono chiamati a combattere. I casi più frequenti sono sicuramente quelli legati alla sfera del rapporto sentimentale, gelosia, amore possessivo e morboso, intento di porre la compagna sotto missione. Talvolta, alla base dei dissidi, ci sono dei motivi economici, molto interessanti alcuni casi in cui l'uomo uccide una donna perché preferisce la sua morte alla conseguenza del mantenimento della relazione, oppure perché teme la scoperta di relazioni extraconiugali o ancora perché teme l'emersione di seri problemi economici cui lo stesso non riesce a fare fronte. Numerosi anche i casi di figli che uccidono le madri per i più svariati motivi, ma principalmente per ragioni economiche. Infine, da non trascurare il numero di casi avvenuti per mano di soggetti dichiarati incapaci di intendere e di volere.